Stava scontando gli arresti domiciliari a seguito del blitz parenti serpenti dello scorso 27 ottobre quando finì Manette assieme ad altre 13 persone, ma tra le mura domestiche con estrema disinvoltura spacciava droga. Protagonista è il giulese Alessandro Di Fede, 25 anni, adesso arrestato dalla polizia e recluso nel carcere di Contrada Balate. Per smarciare la sostanza superfacente utilizzava il paniere dal balcone, un metodo infallibile per non testare sospetti, in piena linea con la tradizione prettamente siciliana del cesto di vimini allacciato ad una corda comunemente utilizzato per salire e scendere da casa beni di consumo. Ma in questo caso non si trattava di beni di consumo, tutt'altro. All'interno del paniere veniva collocata la droga. Gli agenti di polizia del locale commissariato, diretto da Francesco Marino, agli ordini del funzionario Laura Romano hanno osservato con estrema attenzione quello che accadeva e hanno fatto eruzione in casa di Di Fede. Dopo una scupolosa ispezione è stato rinvenuto circa mezzo chilo di marijuana che si trovava dentro la tromba dell'ascensore di cui il ragazzo si serviva come nascondiglio e a cui aveva accesso diretto tramite un sistema di movimentazione manuale dello stesso ascensore non funzionante da tempo. All'operazione di polizia hanno preso parte anche gli agenti del reparto prevenzione crimine. E' sempre la polizia di Gela nell'ambito di controlli alla ricerca di armi e munizioni ha trovato presso un negozio di ferramenta monete, monili e reperti di presumibile ingente valore. Il materiale archeologico costruito e ripartito in appositi raccoglitori e completo di vaschette numerate per la ripulitura era nella disponibilità di un pregiudicato di 69 anni. Altre monete sono state rinvenute a casa di un uomo di 60 anni. Entrambi adesso sono stati denunciati per la ricettazione. E i carabinieri di Riesi hanno ammanettato un 36enne per evasione da domiciliari e resistenza e minaccia pubblico ufficiale. Si tratta di Carmelo Scaffini. L'uomo è stato intercettato in via Cavour. Alla vista dei militari dell'arma ha tentato una fuga nascondendosi nell'abitazione di un altro pregiudicato. Ammanettato, Scaffini ha rivolto frasi minacciose ai carabinieri opponendosi con spinta e strattoni all'arresto. Adesso si trova nel carcere di Caltanissetta a disposizione dell'autorità giudiziaria.